Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda, questa mattina il primo consiglio regionale della nuova legislatura Alessandra Todd, la prima donna presidente della regione, ha ufficializzato la sua giunta La Sardegna ha salutato oggi la nuova legislatura, maggioranza PD 5 Stelle un esito scaturito dalle ultime votazioni che hanno decretato la vittoria di Alessandra Todd e candidata presidente del Campo Largo appoggiata da dieci liste Chiusi non senza polemiche i conteggi, ufficializzata la vittoria oggi si è tenuta la prima riunione dell'Assemblea Sarda e la presentazione della nuova giunta 12 assessori di cui 5 donne e 6 uomini scelte effettuate dopo una consultazione tra le forze del Campo Largo una legislatura con un segno di discontinuità con il passato ha detto fin da subito Alessandra Todd che già incarna per il fatto di essere la prima donna a ricoprire la carica di presidente della regione un bel segno di differenza con il passato promette anche di affrontare a muso duro i tanti nodi che imbrigliano il futuro della Sardegna intanto ha dettato una linea per l'azione di governo non più assessorati che lavorano ognuno per conto suo ma un impegno interassessoriale che dovrà coinvolgere anche gli uffici e non solo la più alta carica primo capitolo la sanità veraspina nel fianco delle tante giunte che si sono susseguite fino ad ora a dirigere l'assessorato competente è arrivato Arnaldo Bartolazzi oncologo esponente del Movimento 5 Stelle è già sottosegretario della Sanità nel primo governo Conte un esperto che dovrebbe far uscire il sistema sardo dal pantano in cui si è trovato peraltro non unico caso in Italia dopo il tremendo periodo pandemico poi la questione energetica e del relativo assalto delle multinazionali del vento la vertenza trasporti con l'imminente scadenza dei contratti in convenzione con le compagnie aeree e la tanto tribolata questione del diritto alla mobilità dei sardi ma nell'isola non sono meno importanti i settori legati all'agricoltura e all'agroalimentare che si sono nuovamente infuocati dopo le decisioni di Bruxelles di limitare gli spazi coltivati con tecnica intensiva la questione del lavoro e della mancanza di professionalità adatte al nuovo mercato e poi tutto il comparto dell'economia turistica che dipende da tutti i settori economici senza trasporti adeguati il flusso dei vacanzieri diminuisce così come senza un intreccio con il mondo dell'agroalimentare si perdono tante risorse che potrebbero rimanere nell'isola per non parlare della carenza di personale competente in tutti gli ambiti la giunta todde ora è alla prova dei fatti per il momento si sta godendo la vittoria questa mattina è stato eletto anche il presidente del consiglio regionale altra importante figura istituzionale si tratta di Piero Comandini già segretario regionale del Partito Democratico sorrisi, abbracci e qualche lacrima giovedì la prima riunione di giunta ordine del giorno, l'election day la presidente intende accorpare i due prossimi appuntamenti elettorali per non disperdere risorse economiche preziose per la regione e l'isola si conferma a meta desiderata anche per il 2024 secondo i dati dell'albergatore PRO potrebbe registrare un tutto esaurito ad oggi il 35% delle stanze disponibili è stato già prenotato l'estate in Sardegna va verso il tutto esaurito almeno nelle circa 5.000 strutture ricettive presenti nell'isola si tratta solo di proiezioni ma se il buongiorno si vede dal mattino ad oggi sono state infatti già prenotate il 35% delle stanze disponibili contro il 20% di appena 12 mesi fa il data center di albergatore PRO prospetta un andamento più che positivo forse addirittura è insperato considerata la Pasqua bassa che non ha soddisfatto le aspettative di albergatori e operatori del settore e così quando ancora mancano diverse settimane all'avvio effettivo della stagione estiva i modelli previsionali basati sui dati d'acquisto raccolti in tempo reale dai software gestionali della community di albergatori professionisti mostrano la crescita dell'incoming di ben 15 punti percentuali rispetto al 2023 e aumenta anche l'average daily rate la tariffa media giornaliera calcolata su camera doppia con colazione inclusa sale del 7% rispetto all'anno scorso toccando quota 137 euro i dati che fotografano lo stato di salute del settore insieme alle strategie per migliorare la qualità dell'ospitalità e la fidelizzazione dei visitatori saranno presentati giovedì prossima ad Olbia a cura della Proloco di Santa Teresa di Gallura per creare un'occasione di confronto su strategie e casi di successo legati al territorio i dati raccolti dimostrano non solo che si va verso un generale aumento di fatturato per il settore complici inflazione e ricarie energetici spiega in una nota Gianmarco Montanari amministratore delegato di Albergatore Pro ma che si sta consolidando la cultura della prenotazione anticipata per non incappare in costi di pernotamento elevati arrivare prima a saturazione impatta positivamente tanto sul portafogli del turista quanto e soprattutto sulla qualità del servizio che l'albergatore può erogare la possibilità di pianificare in anticipo quindi un vantaggio anche per il sistema dell'accoglienza gli operatori del settore hanno infatti modo di organizzarsi per la stagione anche sul piano del reclutamento della forza di lavoro adeguata nei numeri è qualificata professionalmente e adesso parliamo di un particolare settore del turismo che è il turismo sportivo incentivato da grandi eventi come quelli del tennis ci sono aspetti che a volte vengono sottovalutati nello sport come nel racconto di un fatto c'è la riconoscenza il vincitore dello scorso anno il francese Humbert oggi 14 nel ranking mondiale decide di tornare a Cagliari già Cagliari, la Sardegna il tennis e che tennis Sardegna Open 2024 Monte Urpino e il suo impianto ma soprattutto e qui sta il secondo aspetto e poi c'è l'aspetto promozionale per la Sardegna il turismo sportivo assolutamente turismo sportivo che è fondamentale a mio avviso per far crescere non solo la passione non solo la cultura sportiva che sono aspetti fondamentali ma anche per far conoscere la nostra bellissima regione nel mondo soprattutto nelle stagioni di spalla come questa e per attrarre nuovi turisti nuove persone che possano spingere l'economia e supportarla in stagioni di spalla nelle quali valiamo nel mercato del turismo un po' meno di quanto valiamo in luglio e in agosto la Sardegna è il centro di nuovo di quel fenomeno il turismo sportivo che sta regalando immense soddisfazioni crea curiosità non solo tra gli addetti ai lavori della disciplina in questione oggi il tennis valorizza quel o quei luoghi dove si tiene l'evento capitolo tecnico ora il tennis italiano raggiunge vette impensate e mai sognate non tornare a Cagliari con i nostri migliori giovani tranne Yannick che non può iscriversi perché i primi dieci giocatori al mondo non si possono iscrivere a questi tornei e che ha obiettivi indiscutibilmente più alti tutti gli altri italiani ne abbiamo nove fra i primi cento sono iscritti a questo torneo da Berrettini a Musetti Sonico Arnaldi insomma la Sardegna si ritrova protagonista lo sa bene Paolo Lorenzi direttore dell'edizione 23 e internazionale d'Italia Cagliari ha vinto una scommessa perché prima questo tipo di torneo non esisteva è stato un successo il successo delle grandi manifestazioni e quindi questo sia credo che sia un momento giusto per fare un torneo di tennis internazionale in Italia soprattutto se come questo è il secondo torneo più importante dopo gli internazionali d'Italia gli internazionali hanno rispetto al record dello scorso anno una prevendita del 35% in più l'ennito ATP final addirittura del 220% in più quindi incominciamo ad avere problemi seri per cercare di gestire e contenere questa passione straordinaria che sta attraversando tutta l'Italia per il tennis e anche per il padel però credo che insomma il futuro sia molto positivo dentro il campo fuori dal campo e soprattutto perché questi ragazzi non sono solo dei grandi campioni ma sono degli esempi straordinari sono dei bravissimi ragazzi hanno un'educazione e un modo di porsi che ci rende orgogliosi e che li fa diventare un esempio straordinario per le nostre nuove generazioni idem peraltro direttore tecnico quello del TC Cagliari Martin Vassar Larghiello che si coccola i giovani e poi sarà curioso tifare anche per l'Algarese Carboni e chissà parliamo di scorci e panorami straordinari a volte rovinati dall'incuria a Cagliari parliamo di Viale Elena occuparsi di turismo a 360 gradi vuol dire in alcuni casi far conoscere situazioni problematiche che purtroppo stridono in maniera evidente sulla bellezza che il comparto dovrebbe offrire come vocazione ultima a Cagliari il Viale Regina Elena versa in condizioni pietose l'astricato fuori sede pericolosissimo sporcizia sedili divelti aiore distrutti rischi per l'incolumità dei cittadini evidenti il tutto come dimostrano le nostre immagini convivono con un panorama unico nel suo genere una passeggiata che ben poche città che si affacciano nel Mediterraneo si possono permettere creato negli anni 20 e 30 il suo progetto di Ubaldo Badas lo splendido viale che si estende lungo le pendici orientali del quartiere di Castello segnandone il confine rispetto al sottostante quartiere di Villanova ha costituito da sempre una delle più frequentate e animate passeggiate cagliaritane in cui abbondavano le occasioni di svago per i cagliaritani veraci la strada alberata viene chiamata terra pieno derivante dal settecentesco progetto dell'ingegnere Lelio Brancaccio ma ormai di quello che fu il viale più amato dei cagliaritani è rimasta solo qualche foto sbiadita a colori e ricordi di tutti coloro che raccontano in maniera nostalgica belle storie vissute nel viale più bello della città soprannominato anche il viale degli innamorati regna un degrado urbanistico non indifferente passaggio obbligatorio per i tanti turisti che vi transitano per raggiungere il quartiere di Castello offre un'immagine triste e di poco amore per la propria città la nostra denuncia anche in questo caso un chiave turistica vuole offrire spunti di riflessione nell'attesa un micio attende sotto il sole che qualcosa di bello accada ci spostiamo all'azzaretto di Cagliari dove fino al 28 aprile prossimo sarà in mostra i grandi maestri del fumetto italiano Leo Ortolani l'ironia la cume e la creatività si fondono in Leo Ortolani un maestro dell'arte del fumetto innovatore creatore del personaggio Ratman che a cavallo tra gli anni 90 e il 2000 ha tenuto testa Tex Wheeler e Dylan Dog una mostra a Cagliari in allestimento nella Sala degli Archi del Lazzaretto di Sant'Elia visitabile fino al prossimo 28 aprile offre il meglio della sua produzione artistica caposaldo innovatore del fumetto che da più di cent'anni intrettiene milioni di persone in tutto il mondo la mostra di Leo Ortolani è una mostra antologica che raccoglie la carriera di Leo Ortolani ed è intitolato i grandi maestri del fumetto italiano Leo Ortolani è uno dei grandi maestri del fumetto italiano la mostra vuole ripercorrere le tappe della carriera di Ortolani dai primi anni 90 ad oggi attraverso una piccola parte del suo lavoro estrapolata da oltre 10.000 tavole disegnate e centinaia di pubblicazioni in oltre 30 anni di carriera l'allestimento della mostra prevede una cinquantina di opere poi se ne aggiungeranno delle altre per una sezione a parte suddivisa appunto in 5 sezioni fondamentali che raccontano in maniera cronistorica le opere di Leo Ortolani quindi raccontano le origini raccontano quello che è il suo personaggio di maggiore successo che è il Ratman raccontano le sue parodie nei fumetti parodie di film e di libri raccontano quello che è il suo rapporto con l'agenzia spaziale italiana e raccontano anche quella che è la sua visione del cambio di genere quindi dei movimenti LGBTQ plus e di tutta anche la generazione nuova che si va a facciare nell'ambito poi della socialità in più c'è un'altra sezione che è la sesta sezione che si chiama Only Ratman Fans dove i grandi autori soprattutto sardi illustratori e fumettisti si faranno una dedica al Ratman e i loro lavori verranno messi in vendita e si devolveranno quei proventi all'associazione Sorriso di Pie che si occupa del reparto di onco e matologia dell'ospedale Businco di Cagliari la mostra organizzata dall'Accademia d'Arte di Cagliari e dalla cooperativa Sant'Elia 2003 con il patrocinio del Comune di Cagliari nasce per far conoscere i grandi maestri del fumetto che segnarono la nascita dello stile made in Italy apprezzato e conosciuto in tutto il mondo la non-arte come la definì Umberto Eco e i suoi protagonisti sono stati infatti un punto di riferimento per le grandi produzioni dei comics americani dei manga giapponesi e della bande cinè francese il fumetto è una considerata la non-arte da Umberto Eco ha un appeal incredibile è sempre più in crescita in Italia siamo passati anche dal periodo del Covid da 3 milioni di prodotti venduti a 11 milioni di prodotti venduti proprio perché è un mezzo di comunicazione veramente forte che coinvolge tantissimi lettori di tutta l'età quindi riesce con il suo linguaggio a coinvolgere il maggior numero di persone possibili è davvero tutto per il momento io vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.